Vuoi memorizzare e ricordare tutti i punti di un tuo discorso? Ti illustro subito una tecnica. La usavo a Cicerone, eh? Primo passo è identificare una o più parole chiave per ogni concetto e crearti un'immagine mentale che ti richiami alla memoria quel concetto. Ad esempio, devi parlare dell'amicizia? Usa l'immagine di un tuo carissimo amico. Poi, che ne so, devi parlare della sincerità? Vedi te stesso con la mano sul cuore che giuri di dire tutta la verità. Il secondo passo è usare una successione di luoghi a te familiari, ad esempio casa tua, dove inserire stanza per stanza le immagini di quei concetti per ricordarli tutti e in fila. Quindi, immagina di entrare in casa tua e la prima persona che incontri e che abbracci chi è? Tuo amico. Sai che devi parlare dell'amicizia. Poi vai in sala e qui ti vedi in piedi sul divano che giuri di dire tutta la verità. Sai che devi parlare della sincerità. Un domani, di fronte al tuo pubblico, basterà che mentalmente ripercorri casa tua e rivedrai tutti i concetti di cui parlare. Provaci!